Cari amici prepariamoci a trascorrere un altro terribile venerdì con Zia Tibia. Questa sera il re dell'orrore è in serbo per noi il film in prima visione televisiva La Casa di Ellen. Un nuovo episodio del telefilm venerdì 13 e il film vietato ai minori di 14 anni venerdì 13 capitolo finale. Ora sta per cominciare un nuovo venerdì con Zia Tibia. Buona serata.